Qui abbiamo un giacone della linea Red Pondi, il modello Ken, sicuramente un articolo di un giacone a mio avviso sempre interessante. Abbiamo questo tessuto in microfibra che ha una morbidezza, una cosa eccezionale. Le caratteristiche dei giubbotti del Red Pondi sono sempre molto tecnici perché sono capi secondo me veramente molto interessanti. Cerco di spiegarlo molto velocemente. Abbiamo quattro tasche esterne di cui due al petto chiusura con cerniera e due tasche al lato in questo caso con chiusura con automatico. Abbiamo un discorso di un pelo al collo che in questo caso non si stacca ma ha un pelo molto morbido, non è qualcosa di ispito, è assolutamente qualcosa che fa molto piacere. E un cappuccio in questo caso staccabile con una cernierina. La parte dietro del giubbotto come vedete presenta solo la bellezza di questo tessuto che è meraviglioso con una piccola ripresa interna di una martingala. Ma poi vi faccio vedere meglio com'è le sue caratteristiche all'interno usando l'altro colore di questo modello che è il colore vero. L'interno dei giubbotti del Red Pondi sono sempre molto particolari, interessanti. Qui abbiamo questa loro razione, se un punto vita e come vi dicevo la caratteristica della regolazione con la martingala. All'interno del giubbotto troviamo un discorso di una tasca chiusura con cerniera e un'altra tasca, in questo caso chiusura con i veri. Tagli e forti uomo rimini, siamo sempre una tagliata. Tagli e forti uomo rimini, siamo sempre una tagliata.